Da sempre mi sono perso guardando gli esseri umani, immaginando loro in tutti gli aspetti, immaginando il loro stile di vita, cosa facevano, quello che potevano essere, è una cosa del tutto immaginaria, è un rapporto emotivo con le immagini che diventa poi una riproposizione di questa emozione provata nel vedere questo spettacolo incredibile che può essere qualsiasi scena, bella, turpe, pornografica, in qualsiasi cosa gli esseri umani si muovono, compiono gesti che sono in perfetto equilibrio di forme e colori, di una bellezza straordinaria, per cui non c'è peccato nel guardare qualsiasi situazione, qualsiasi situazione è bella e ha un equilibrio divino, in ogni pezzo della carne c'è un riflesso della luce divina, per cui è una sorta di preghiera, di adorazione della bellezza costante.